Io l'ho detto candidamente, se questa era una decisione da prendere con il cuore e con la pancia io stavo a Pescara, stavo qua perché ci sto bene, la gente mi vuole bene, io sono stato bene sono stati due anni belli, fortunati, che mi hanno dato, io ho cercato di dare quello che potevo sicuramente potevo fare meglio, però comunque ho dato quello che era nelle mie possibilità ho ricevuto moltissimo in termini di soddisfazione, di affetto, di stima ma anche qualche critica fa parte del nostro lavoro, le accetti volentieri così come le ho accettate e sono normali, però questa decisione è partita dalla testa, la testa ci ha messo due o tre mesi a riflettere questa decisione e la testa ha prevarso sul cuore e sulla pancia e quindi vado via con dispiacere, però vado via con la convinzione di aver fatto la scelta e in questo momento mi sembrava più giusto fare. Io ho un rapporto con i nostri soci particolare, la nostra è una società un po' particolare in contesto, una società formata da tante persone, fortunatamente che questo consente la sopravvivenza del club, io non abbiamo affrontato tanti temi perché io tanto so come ragionano loro, loro sanno come ragiono io, io so le loro abitudini, so le loro aspettative loro sanno le mie aspettative, quindi alla fine il confronto poi si riduce a parlare di soldi, ma vedi se sui soldi fai un sacrificio, dice sì però poi ho quest'altro tipo di spazio piuttosto che dice questo altro tipo di incidenza non ce l'ho però in cambio mi soddisfano, cioè sono tante piccole cose da mettere insieme, di che noi non abbiamo neanche parlato e che le diamo tutti per scontate, io non posso pensare di andare a loro a Chievi di cambiare l'impostazione, questa è una società che non è impostata sul piano manageriale, ma io lo so, l'ho condiviso per due anni, non è che io ho sofferto questi due anni, mi sono adattato a loro che io seppur di russo ma sempre dipendente sono, quindi mi sono io messo a disposizione loro come giusto sia, ma come potevo anche continuare a fare nel futuro. La difficoltà di fare cambiare tutto, di stringere la borsa, di cambiare il progetto tecnico, questo alla base, più dei soldi? No, guarda, io ho cominciato a prendere un po' le distanze dalla progettualità di quest'anno, alcuni mesi fa, quando in azienda, perché queste sono persone per bene, sono persone serie, loro giustamente dice noi dobbiamo fare il campionato e siamo in rinodizione di poter fare e questo gli va dato un grandissimo merito e questa gente con questi atteggiamenti, con questa serietà garantisce la continuità della vita del calcio a Pescara, se no si ritorna a quello che erano i casino di alcuni anni fa. però questo significava un ridimensionamento di livello tecnico, quella cosa là mi mise già un po' in allerta, disse ma io personalmente non do responsabilità a nessuno, dico io personalmente ma me la sentirò di abbassare, di condividere un progetto tecnico un po' troppo risicato come i numeri sembrava fossero, ora in realtà poi ho visto ultimamente i numeri si sono un po' riallargati, insomma il discorso è ritornato anche, non è che con i numeri vinci i campionati, diciamo il livello di rischio è che tu ti assumi. Zeman? Zeman è una scelta importante, importantissima, è un allenatore unico, trovare gli aggettivi giusti e difficili, è un allenatore particolare, che tu devi condividere la sua filosofia, come lui chiede la condivisione ai giocatori, la società deve condividerla con lui, quindi lo devi supportare, assecondare, hai fatto una scelta radicale, quindi tu hai azzerato una situazione per sceglierne un'altra. Ma secondo Lucchesi Zeman è l'allenatore per Pescara come piazza e per Pescara come società, come società tipica? No, no, Zeman è sicuramente un allenatore per Pescara, io dico il Pescara deve essere una società per Zeman, nel senso che tu devi, tu hai fatto questa scelta importante, lo devi però adesso supportare fino alla fine, non puoi mediare, è un allenatore, non è da mediazione, sicuramente se riuscirà ad esprimere quel suo bel gioco farà entusiasmiare la piazza e questo sicuramente a Pescara piace, l'augurio per l'azienda, per lui, per i giocatori tutti è che questo poi alla fine porti anche risultati, perché poi alla fine la Sifia la fanno punti insomma, però ripeto, è la società che deve andare incontro a Zeman, più che Zeman adatta a Pescara, è la società che deve essere adatta a lui. Io Pescara ho un ricordo solo positivo, io ho stato fortunato ragazzi, io in due anni quando, anni e mezzo, e poi sono arrivato un mese prima o due mesi prima della salvezza del 2008-2009, l'anno della squadra si è salvata a Cava di Tireni, quindi io devo dire fortunato, dai, e quando i periodi sono fortunati e sono belli, ti rimane solo gioia dentro e devo dire, sono contento anche di sentire calore intorno a me in varie occasioni, in vario motivo, quindi Pescara tutta la vita, pescare tutta la vita al mare, a mangiare pesce, a frequentarla e chi sa mai anche lavorare.